Direttore di Terlizzi, quali sono le novità che attendono al Barco, l'Accademia di Belle Arti, in questo nuovo anno che si inaugura oggi? Allora, l'inaugurazione dell'anno accademico non è propriamente cominciato con questa iniziativa. L'iniziativa è voluta prevalentemente dal neopresidente, l'avvocato Massimiliano Arena, perché aveva voglia di un piccolo focus con professori, studenti e amministrativi per appunto conoscere in un solo momento tutta l'Accademia di Belle Arti di Foggia. Per quello che riguarda invece la parte didattica che oggi andiamo a presentare, noi andiamo a fare una piccola apertura su quelli che sono i corsi nuovi che noi abbiamo attivato e in particolare corsi di fumetto e illustrazione per l'infanzia, che hanno già raccolto molti consensi, molti studenti, non solo appunto dalla città di Foggia, ma appunto che vengono da diverse realtà. La BAT, la Basilicata, il Basso Molise. E poi noi andiamo a ripresentare un piccolo saggio di quello che il lavoro ha avviato già lo scorso anno con il corso di cinema audiovisivo e fotografia. È un piccolo saggio che i ragazzi hanno fatto, si chiama propriamente Living in FG ed è un piccolo esempio di come appunto la città di Foggia possa essere produttiva da questo punto di vista nell'area dell'intrattenimento, dell'intrattenimento cinematografico, dell'intrattenimento televisivo e audiovisivo e ripropone anche la bellezza della città con i suoi location, con le realtà di attori, di registi, questo è la cosa fondamentale. È stato interamente prodotto dall'Accademia in collaborazione con la Puglia Film Commission.